Ben ritrovati con l'informazione amici di KFTV24, apriamo la nostra pagina con la cronaca hanno arrestato Superman. Domenica pomeriggio la polizia ha arrestato un pluripregiudicato, 45enne padovano specializzato in furti con spaccata sorpreso dagli agenti delle volanti dopo aver sfondato con un tombino la vetrata del bar Liberty chiuso per riposo settimanale in zona Chiesa Nuova a Padova. L'intervento di polizia è scattato immediatamente dopo la segnalazione di un ragazzo che ha contattato il 113 dopo aver notato una persona che si aggirava con fare sospetto intorno al bar in via Piave. Il predone uscito dal carcere alla fine dello scorso anno dopo aver scontato una pena per furto aggravato è stato nuovamente arrestato per tentato furto sempre aggravato. I cadaveri di due persone, madre e figlio, sono stati rinvenuti oggi pomeriggio in una abitazione ad Albignasego in quartiere Sant'Agostino. La scoperta è in via Caravaggio, vittime un'anziana di 85enne e il figlio convivente di 59. A dare l'allarme i vicini di casa per il forte odore nauseobondo proveniente dall'appartamento. Visto l'avanzato stato di decomposizione dei corpi, la morte risalirebbe ad un paio di settimane fa sul posto i vigili del fuoco, i sanitari del SUEM e i familiari. I carabinieri di Selvazzano hanno denunciato un incensurato. Due piante di marijuana alte circa 3 metri quasi mature per il raccolto sono state scoperte nel pomeriggio dai carabinieri in un vigneto a Selvazzano. Nei guai è finito quindi un 44enne del posto denunciato per la coltivazione illegale dello stupefacente. E con questa sono 4 le visite dei ladri in soli 3 mesi. Il 13 giugno il primo, il 4 e proprio ieri il 18-19 settembre. Due i colpi a vuoto ma due invece sono andati a segno ai danni della tabaccheria di Via Trevisan a Vigonza gestita da Antonio Miozzo ormai esasperato. I ladri questa volta hanno causato più danni che quello che hanno rubato per un totale di 3.000 euro. L'ultimo questa notte dicevamo i gnoti sono entrati nel negozio dopo aver scardinato il vetro blindato appoggiandolo a terra. Nel bottino sono finiti un pc portatile, un grattevinci, ricaliche per il cellulare, sigarette e anche il fondocassa. E torniamo a parlare di un fatto di cronaca. Questa volta i polizzotti della questura di Padova sono entrati in azione nella notte tra sabato e domenica. Intorno a 1.30 gli agenti hanno effettuato controllo all'interno del cantiere di Via Alessio a seguito di una segnalazione e hanno trovato un cittadino tunisino identificato e risultato essere irregolare sul territorio nazionale con un atto di divieto di mora nella provincia di Padova. E' stato fotosegnalato e quindi denunciato per aggravamento della misura poi rimesso in libertà. Alterato dai fumi dell'alcol si è ripresentato nella casa in cui abitano moglie e figlio dai quali però doveva mantenersi a debita distanza a seguito di un provvedimento del giudice scaturito da delle denunce per maltrattamenti in famiglia, mosse sia dalla donna che dal minore 14enne. Ebbene il 46enne Moldavo, residente a Monselice, contravvenendo al divieto già attenzionato dai carabinieri della locale stazione che seguivano da mesi da vicino la vicenda, è stato prontamente bloccato ieri sera dai militari nel corso di una lite che stava effettuando con l'ex compagna. Nei confronti dell'uomo è scattato quindi l'arresto per maltrattamenti in famiglia e quindi portato in carcere dove ora si trova a disposizione dell'autorità giudiziaria. Caduto dalla carrozzina lungo l'argine, privo di sensi, è stato trovato così Corrado Canato, 53 anni, residente a Padova ma originario di Correzzola dove abita con la famiglia di origine in via Papa Giovanni XXIII, trasportato all'ospedale d'urgenza e deceduto poco dopo. Stroncato forse da un malore ma non si esclude che sia stato vittima di un incidente. È accaduto ieri pomeriggio appunto nella frazione di Brenta D'Abbà a Correzzola. Uscire prima dell'alba per andare a lavoro, parcheggiare come sempre l'auto e dopo ritrovarla distrutta. È successo a Giancarlo Bellucco all'alba di venerdiscorso. Solo grazie al passaparola, all'aiuto degli amici e dei social network è riuscito alla fine a trovare il responsabile che gli ha causato la distruzione dell'auto. Un camion grigio sbanda lungo la via e colpisce con forza l'auto del Bellucco. Finisce in mezzo alla strada quest'auto, distrutta con una ruota addirittura saltata del tutto. L'autista del camion non si ferma, continua la sua strada come se nulla fosse accaduto. I danni subiti sono di circa 12 mila euro pensate. E la rete così si attiva. Nel giro di qualche ora il post raccoglie oltre 3.500 condivisioni. Spunta anche un video sullo sfondo di una ripresa di solveglianza. Si vede l'auto parcheggiata, un camion che si muove e quindi l'auto che scompare. Si trova appunto metri di distanza in avanti, distrutta. Il titolare dell'azienda per cui il camionista lavorava si dimostra comunque comprensivo e compila con il Bellucco, dopo che ha ritrovato il mezzo che ha causato l'incidente, la constatazione amichevole concludendo in maniera ottimale l'intera vicenda. Buon per lui. La prima commissione consigliare del Comune di Padova, politiche della qualità della vita, partecipazione e pari opportunità, presieduta dal consigliere Riccardo Russo, si riunirà insieme alla seconda commissione consigliare del consigliere Francesca Betto, martedì 20 settembre alle ore 18 nella sala del Consiglio Comunale di Padova di Palazzo Moroni per la trattazione di alcuni argomenti, tra cui la relazione incontro dell'assessore Marina Buffoni con i referenti della trasparenza dei Comuni del Veneto, capoluogo di provincia, giornata della trasparenza amministrativa, varie ed eventuali su cui discutere. Bene, chiudiamo qui la nostra pagina di informazione locale, dandovi appuntamento come sempre alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito. La linea ora torna ai colleghi. Buona giornata. Grazie per averci seguito.